buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere una piattaforma di landing e borwin con tante altre funzionalità che gira sulla blog scene e si integra su armoni ma prima di andare nei dettagli vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiata ancora fatto ed ogni bianca la nostra community telegram ora andiamo a vedere che cos'è tranquille finance dopo la sigla siamo in casa armoni one e stiamo su tranquille finance ovviamente per interagire con questo protocollo che un money market bisogna utilizzare un wallet no custodial come sempre si può utilizzare meta mask correttamente stettato sulla armoni chain come potete vedere nella guida in sovraimpressione che vi lascerò comunque linkata in descrizione a questo contenuto dovete avere meta mask cliccare su custom rpc e andare a settare i parametri richiesti parametri che potete trovare sempre nel link che vi lascerò in descrizione nella parte sinistra per quanto riguarda la mainnet la parte destra per la test ne la parte da utilizzare e la parte mainnet una volta che avete settato meta mask con la armoni mainnet dovete per interagire con questi protocolli il token one all'interno di meta maschel token one che vi servirà per effettuare lì swap ma soprattutto per pagare le basse fi della blog chain un po come subaina smart chain che bisogna avere bnb per il pagamento delle fee su armoni bisogna detenere one una volta che siete atterrati su questa home page potete cliccare sul lancio app e atterrerete sempre sul protocollo di tranquille finance in alta destra potete cliccare su connetti wallet e connettere il vostro meta maschi in automatico mi ha preso una parte di indirizzo perché io avevo già fatto una connessione precedentemente all'interno di questo protocollo come ave permette la piattaforma di prestare e prendere in prestito delle cripto valute anche l'interfaccia è veramente simile primi dati che possiamo vedere la total supply the che già alta e il total borro e perché anche qua ha dei numeri non indifferenti dalla parte sinistra supply market noi possiamo andare a prestare queste cripto valute questi token con gli interessi che vediamo scritti nella colonnina e più ai dalla parte di destra e invece possiamo andare a prendere in prestito dei token delle cripto valute quelle che vedete sempre in elenco con il pagamento degli interessi perché siamo dei debitori sempre nella colonnina degli più ai tornando alla schermata di sinistra su supply market vedete che dopo la tua volta supplied avete la parola collaterale e a fianco ai token alle cripto valute che possiamo dare come liquidità possiamo cliccare su questo polsante e utilizzarle come collaterale per andare a prendere in prestito delle cripto valute come ben sapete per andare a prendere un prestito sulla the file bisogna dare delle garanzie e sulla the file bisogna dare una quota in collaterale vi faccio un esempio sciocco magari per prendere 1500 dollari di ethereum andiamo a mettere come collaterale 700 dollari di usd si i 700 dollari di usd si sono la nostra garanzia come detto in altri video e lo ripeto anche in questo prendendo in prestito delle cripto valute ci sono i rischi derivanti da questa operazione ovvero il rischio di liquidazione come di consueto anche tranquille finance ha un token utility un token governance all'interno del protocollo lo troviamo al rank 8876 per capitalizzazione di mercato con l'acronimo tranche nel momento in cui sto registrando il video ha un oscillazione positiva del 473 per cento con un valore di mercato di 0,63 centesimi di euro è probabile che quando guarderete questo video il prezzo sarà variato perché come ben sapete capita spesso che registro i video nel giorno che ho di riposo dal mio lavoro in negozio e poi li pubblico nei giorni successivi quindi il prezzo che vedete a video può variare il rifornimento totale di questo to che è un miliardo e ha ottenuto anche una certificazione di certi con oditi di certi siamo a meno del 32,50 per cento della sua th quindi dal suo prezzo più alto raggiunto il 6 gennaio 2022 a quota 0 81 centesimi di euro il prezzo più basso di sempre è stato registrato il 13 disembre 2021 di 0 11 centesimi di euro il 50 per cento della supply destinata alle rewards il 28 per cento è destinato al tesoretto il 10 per cento al team il 2 per cento al bootstrap liquidity e il restante tra i si della public sale passando col mouse sopra ai più ai vedete che questo interesse è formato da market 3,97 per cento ovviamente sono dati variabili e reward 5,46 per cento che cosa vuol dire vuol dire che depositando una valuta un token di riferimento riceverete il 3,97 per cento proprio nello stessa valuta che state depositando mentre il 5,46 per cento in questo caso le reward sono riconosciute nel token utility della piattaforma ad esempio andando a depositare usd si riceverete l'8 virgola 61 per cento in usd si 4,28 per cento nel token trunk quello che aveva appena detto lo potete anche verificare cliccando per l'appunto su usd si appare questa schermata dove vedete tutti questi dati come succede spesso come avevo visto anche su tectonic la piattaforma per attirare liquidità per far funzionare anche i prestiti utilizza il sistema di liquidi di mining e vari compensare gli utenti sia che forniscono liquidità quindi prestano liquidità ma anche chi va a chiedere un prestito infatti come potete vedere a parte questi dove sono già negativi perché comunque gli incentivi di liquidi di mining non durano in eterno durano per pochi mesi giusto per far conoscere la piattaforma incentivare gli utenti a utilizzarla ad esempio su chiedendo in prestito one vedete che il market è meno 9,23 però il reward la ricompensa per aver chiesto un prestito è del 9,54 per cento quindi la differenza tal market reward fa sì che chiedendo in prestito one al momento non si va tra virgolette a pagare gli interessi per aver chiesto il prestito ma veniamo ripagati dello 0,30 dello 0,31 per cento degli altri asset e vedete che le più ai e negativa quindi in questo caso noi andiamo a pagare per aver chiesto il prestito ad esempio su usd si il 9,65 per cento per quanto riguarda il token holder del token one come abbiamo visto possiamo metterli a rendita prestarli sulla piattaforma oppure chiede all'imprestito l'alternativa cliccando su stone possiamo andare a bloccare i nostri one in liquidi steki ovvero andremo a mettere in steki nel token one che fungerà da supporto ai validatori e come controparte per premiare gli utenti che vanno a contribuire al protocollo viene dato stone come token che sarà possibile poi utilizzarlo nella defi per x motivi per ricevere i liquidi steki bisogna almeno mettere in steki 101 ovviamente una volta ottenuti listone oppure st one chiamateli come volete può fare l'operazione inversa ovviamente togliendo dallo steak quindi cliccando a steak e si andrà a riconvertire gli st one in one il periodo di sblocco visto che si va a delegare un token sarà di almeno sette dieci giorni se non vado errato sette sicuramente quindi una volta cliccata steak prima di poter riconvertire davvero i nostri one passeranno almeno sette giorni come potete vedere in sovraimpressione andando a mettere in steak i nostri one ci viene ricompensato con un ip y variabile attualmente del 10,8 per cento sempre all'interno del protocollo ad esempio si può andare a fornire liquidità al 50 per cento con city one e one per andare a mettere a rendita gli lp token all'interno del protocollo anche se poi vanno su sushi swap e avere così un interesse una pr del 31,99 per cento e la ricompensa viene fatta nel token tranche sempre all'interno del protocollo cliccando su tranche ci permette di andare a mettere a rendita il token utility della piattaforma andando a mettere a rendita sul lock the trunk steaking si andrà a vincolare per sei mesi il token tranche a un epr del 54,45 42 per cento attualmente in caso di urgenza si può anche svincolare prima dei sei mesi ma si andrà a pagare una penale del 50 per cento sulle reward ottenute le reward vengono pagate in questi token e vanno a raccogliere come viene menzionato il 75 per cento delle fiche vengono distribuite dal protocollo un'altra possibilità molto interessante di utilizzare tranche e andare a fornire la liquidità al pool tranche one con una pr del 156 49 per cento variabile oppure andando la mente nello steak inflessibile al 33,67 per cento con i pagamenti in reward con i pagamenti delle ruore sempre in token tranche bene anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento spero che il video vi sia piaciuto e come sempre l'abbiate trovato facile e di vostro gradimento vi invito inoltre ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto ad ogni via la nostra community telegram e di fare sempre mi raccomando le vostre ricerche prima di operare in questo settore e in qualsiasi altro settore dove occorre foraggiare con i vostri fondi noi ci vediamo prossimamente grazie a tutti ciao 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 ciao